Dovrebbero concludersi all'inizio del prossimo anno i lavori di restauro all'interno del santuario della Madonna della Consolazione a Paternò. Un intervento che va ad aggiungersi agli altri realizzati nel corso di questi anni e che si concluderanno con il restauro completo dell'intera struttura religiosa. Un intervento reso possibile grazie ai fondi della congregazione del santuario della Madonna della Consolazione e della fondazione Michelangelo Virgilito. E proprio sulla figura di Michelangelo Virgilito tornano ad accendersi i riflettori dopo la nuova puntata di Report andata in onda domenica scorsa, tornata a gettare nuove ombre sul personaggio. Michelangelo Virgilito, come dice il Report, partito con le scarpe bucate dalla sua Paternò, diventato milionario a Milano grazie al possesso dei beni degli ebrei colpiti dalle leggi razziali. La domanda che tutti si pongono ruota attorno all'interrogativo se è proprio andata così. In città la voce con numerose varianti non è nuova, ma non ci sono atti che possano confutare una tesi piuttosto che un'altra. Tesi, supposizioni restano, senza alcuna base reale se non il chiacchiericcio. Un atteggiamento non da inchiesta giornalistica se si dà adito a supposizioni senza avere documenti che possano confermare le affermazioni prodotte. E non è l'unica ombra su Virgilito lanciata. Senza voler smentire nulla, visto che non abbiamo prove documentali che attestino il contrario rispetto a quanto affermato, vogliamo guardare alle azioni che sono sotto gli occhi di tutti e di cui nessuno parla. Le opere di beneficenza prodotte in maniera perpetua nel territorio grazie proprio alla Fondazione Virgilito. Tolte tutte queste storie che si raccontano, perché il problema di noi paternesi, gli ammi mettono in paternesi, è che sappiamo soltanto quello che ci raccontano. Mio nonno mi diceva, mio nonno mi diceva, ho sentito, ma vai a informarti se è vero o non è vero, e ci si racconta di nuovo, perché qual è il problema di questo, che non voglio nominare, di questo programma, che dà per vero una diceria. Dove è l'argomento? Dove sono quegli estratti, quelle notizie, quello che loro dicono, almeno i giornalisti dovete un po' bassare, loro lo danno per vero, loro fanno un rumore, un'affermazione, un'asseverazione che Michelangelo Virgilito ha avuto quello perché ha fatto un affare con gli ebrei. Ma dai, dove è scritto? Come fai a fare una cosa? E poi, ripeto, lo danno come un'asseverazione certa, anche perché è un modo di parlare che tutti conoscete. Purtroppo dico, Michelangelo Virgilito, lo che sì che dovete conoscere, che non lo conoscete, è quello che ha fatto e fa ancora per il paese, che ha fatto un ospedale quando in altri paesi non c'erano, che ha fatto dei licei quando in altri paesi non c'erano, che ha fatto l'installazione di acqua, i pozzi che abbiamo, che vediamo quando in altri paesi non c'erano. Queste cose che ha fatto per la città, che non so te, non so voi che mi state facendo l'intervista, però ha le spose ogni anno, elargisce dei soldi perché possano iniziare a avere uno spazio di felicità nella loro famiglia. Ogni anno le spose vengono ha dei soldi, che io ho dato sabato scorso, le borse di studi nel liceo scientifico. Un bel po' di soldi, ragazzi. Ecco, questi soldi sono una spinta ai ragazzi che meritevolmente, ecco, hanno vinto queste borse di studio e sono anni, decenni, che vengono dati migliaia prima di lire, adesso di euro. E non si dice niente, capito? Questo è quello che io dico, ma è possibile che tutti sanno la storia degli ebrei e nessuno sa il bene che si fa, il bene che si fa di concreto, no? Ecco, questo è un po' il mio pensare. È possibile, io ho offerto, ecco, al comune che questa piazza venga nominata, che sia la piazza, ecco, Michelangelo Virgilito. Perché mi sembra che è possibile che in questo paese non ci sia una riconoscenza a una persona che continua a dare, che continua, ecco, la sua vita viva per l'opera che ha voluto sciare per i poveri di questo paese. Dai, questo bisogna riconoscerlo. Forse è lì dove tutti abbiamo un po' di riprendere una storia che ci appartiene, però che non vogliamo riconoscere. Grazie a tutti.